quindi siamo con leonardo melis io ti conosco in questo momento e quindi non sono preparato allora l'occasione per sapere le tue cose le tue ricerche almeno di che cosa ti occupi soprattutto chiaramente quando si chiede leonardo melis qualcosa del genere diventa un problema perché sono diverse pubblicazioni diversi libri diverse pubblicazioni all'estero eccetera comunque diciamo che il nome di leonardo melis è legato a charda nei popoli del mare che oggi sta navigando non solo con i miei libri ma con quelli tanti altri che hanno seguito poi a scrivere di questo argomento e sta entusiasmando tutti soprattutto la questione sardana per i sardi chiaramente ma ma anche i popoli del mare per il resto d'italia e del mediterraneo cioè se possiamo riassumere in due battute così da quello che mi è sembrato di capire i sardi o gli sardana erano un popolo marinaro allora sardi sardana e il nome è quello erano anche un popolo marinaro se vivevano in un'isola è normale ma anche noi lo siamo cioè voglio dire molti mi chiedono infatti ma erano cosa erano guerrieri cosa erano mercenari pirati cosa diavolo era erano un popolo come tutti i popoli avevano i naviganti avevano i pastori avevano i contadini soprattutto marinai perché vivevano nelle coste delle delle terre non solo della sardegna ma soprattutto ascolta leonardo del tuno questo tuo ragionamento su che cosa si appoggia degli elementi concreti oppure lo credo bene ci ho studiato 40 anni in giro per il mondo soprattutto in egitto chiaramente ma non solo ma nel resto d'europa dall'inghilterra alla francia eccetera quindi gli studi sono una raccolta di esperienze di vita vissuta non necessariamente per scrivere un libro al contrario di altri che hanno deciso di scrivere un libro e hanno fatto le ricerche io non dovevo scrivere i libri è stato un editore pazzo un editore stato che ha fatto una scommezza dice perché lei il suo libro sarà un best seller dopo due anni mi ha convinto e quindi all'inizio del 2000 io ho pubblicato questo libro in italia e chardana i popoli del mare che è esaurito in una settimana e oggi ha 15 ristampe ma anche traduzioni in altre lingue eccetera e quali sono gli elementi sui quali tutti appoggi diciamo probanti le mie scoperte soprattutto ecco perché questa città ce n'è almeno qualcuna allora una città sulla giara dove non ci dovevano essere insediamenti secondo gli archeologi che io chiamo archeoboni buonariamente loro mi chiamano come in altri appellativi e io ho scoperto una città sulla giara anzi adesso sono due e quali sono allora una è santa vittoria che era quella che io cercavo io sono originario di quella zona da bambino e c'è la mia prima scoperta a otto anni un reperto e tu sei un archeologo quindi no io sono uno storico mi occupo anche di archeologia perché ho scavato siti non in italia dove non potrei ma in egitto si si ho scoperto un tempio in egitto con macchinari che non dovrebbero esistere ma questo non è un argomento di cui parleremo oggi però diciamo che molti mi accusano di non citare le fonti che fonti devo citare sono le mie le scoperte la zigurat in pozzo maggiore la piramide di sassare che poi una paiara sarà una novità per i sassaresi stasera e per quelli della zona quindi è un regalo che faccio agli amici di sassare e in egitto invece che cosa hai trovato in egitto ho trovato il sardana il sardana come chiamiamo noi e che cosa però nella la guardia personale del del faraone dei faraoni ho capito ma c'è un documento c'è una immagine ma ecco c'è dove gli studiosi egizi chiamano questi guerrieri sardana attenzione che però nelle mie prime puntate in egitto negli anni 80 e loro chiamavano sardana i popoli del mare venuti da venezia dopo la mia seconda incursione la cosa cambiata perché il governatore di cui ero ospite li presentò al ministro alla cultura al cairo il quale è decisa che sardana donne navali sono i sardi per le guida egiziane quindi se vai in egitto ti diranno questi sono i sardana vengono dalla sardegna questi tuoi ragionamenti queste tue ricerche hanno l'appoggio del mondo ufficiale c'è stato subito uno scontro nel 2001 in un convegno archeologico di oristano dove sono volate le sedie ma non per colpa mia colpa loro perché io ho parlato il convegno era dedicato ai sardana il popolo dei nuraghi un punto interrogativo io sono intervenuto per ultimo ho parlato di sardana i popoli del mare quindi figurati la sorpresa la gente però è venuta a salutare a abbracciare leonardo melez puntando il dito contro di loro gli altri erano tre archeologi dice bravi massacrati cioè non ripeto quello che è stato detto il giorno e quindi c'è stata questa inimicizia immediata oltretutto loro non erano abituati a essere contestati nel loro dire io purtroppo li ho contestati per chiudere io sono un po profano ed esterno ma mi ricollego ho l'immagine perlomeno in testa in questo momento della navicella nuragica sardana ecco non nuragica sardana contrariamente a quanto di cui mi accusano e leonardo mesi praticamente giudica i sardana nuragici e tutto il contrario io faccio una netta distinzione fra nuragici che non sappiamo come si chiamassero e sardana e oggi parleremo anche di questo questa tua passione quando è nata tu sei un autodidatta allora allora io ho fatto gli studi classici basandomi sugli studi classici punti interrogativi eccetera poi girando il mondo dall'egitto all'oriente come abbiamo detto prima europa eccetera vedevo riuscivo a trovare le spiegazioni per le cose di cui io dubitavo ma non solo io quanto capito perché molti lettori mi scrivono ma io lo sospettavo signor medis questo lei me l'ha confermato questa è una cosa bellissima ultimo abbiamo chiuso esiste anche una scrittura gli sardana oppure niente non solo gli sardana ma i popoli del mare inventarono la scrittura alfabetica nessina e alla fine del terzo millennio la scrittura alfabetica di cui si parla tanto oggi è un'invenzione dei popoli del mare non lo dice leonardo milis lo dicono gli archeologi di primo secolo 1900 leonardo bulle diceva che i popoli del mare regalare ai loro compagni cananei quindi quelli che chiamano loro finici il segreto della navigazione della porpora e della scrittura quindi la scrittura chiamata felice scrittura dei popoli del mare sardana grazie